Il Master rappresenta per me un'esperienza di crescita personale e professionale che mi ha consentito di sviluppare e avere maggiore consapevolezza sia di quelle che sono le mie soft skills sia di quello che è il mondo del lavoro e il ruolo del controller nello specifico. Tutto questo grazie all'approccio allo studio molto tipico e caratteristico del Master che è lavoro in team e casi studio. Ti consente di avere una panoramica 360 gradi di tutte le tematiche che puoi incontrare lungo il tuo percorso ma sicuramente le conoscenze e competenze che oggi mi consentono di svolgere al meglio la professione sono sia competenze e conoscenze soft che tecniche soprattutto capacità di analisi e interpretazione del dato. Grazie.